DIVISIATO DIVISIATO Devi per forza tenere la maschera? Dipende. Rilassati. Non voglio farmi pestare di nuovo da mio nipote. Anche tuo padre mi fissava sempre in questo modo. Ehi. Martin Li... Lo hanno liberato. So cosa pensi, Miles. Non è colpa tua. Non lasciare che viva qui. È solo un'altra prigione. Non è così semplice. Non l'ho mai detto. Ma a volte devi mettere da parte il passato. E lasciare spazio al futuro. Per questo ti ho chiamato. Mi serve una cosa. Farei da solo, ma... Prowler è in pensione ormai. Che cos'è? Vecchia tecnologia che voglio recuperare. Nascosta in un laboratorio Roxxon a Central Park. Sì, ho presente. Hai davvero chiuso con Prowler? Sì, per entrambi. Sì. Ehi, aspetta. Ma come... Miles. Riguardo Lee. Sii prudente. Sì, sì. Sul serio, Miles. Ho sentito che quel tizio può mandarti il cervello in pappa. Lascialo perdere. Allora, raccontami le novità. La scuola? Il college? Ti piace qualcuno? Non saprei. Quindi qualcuno c'è. Sono qui. Cosa devo cercare? Usa gli occhi, nipote. Ho caricato un codice di Prowler quando ho scambiato la maschera. Ovviamente. Il bottino resta nascosto finché non rileva il codice della tutta. L'ultimo passo è decifrare la chiave. Prova. Non avere fretta. Va con calma. Fatto. Non male, ragazzo. Fatto. Non male, ragazzo. Non pavere mai, ragazzo. Un'altra porta. Ah! Un'altra porta! grande non si apre da qui quasi meglio di prowler ora dovresti riuscire a entrare io ma è da pazzi tenevi l'intera stanza nascosta qui in piena vista bene ora vuoi dirmi di cosa si tratta sono vecchi prototipi puoi tenere tutto è tecnologia di qualità forte può essermi utile c'è un deposito vicino alla cima del braxton bintino ma come gli vengono è No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ecco, ci siamo. No, no, no. Zio Aron ha un escondiglio vicino allo stadio. Quel tubo mi indicherà il democino. No, no, no. Un generatore. Deve fornire energia a qualcosa. No, no, no. No, 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 no. Ha aperto il deposito. La maschera rileva a un deposito di Browler. Ha aperto il deposito di Browler. Un generatore funzionante. Un po' di energia in più mi farà comodo. Un po' di energia in più mi farà comodo. Il codice di Browler. Il codice di Zio indica un deposito qui. Forse posso posso tirare su quel tubo. Un po' di energia in più mi farà comodo. Uh... Un po' di energia in più. Un po' di energia in più mi farà comodo. Hai trovato il deposito alla vecchia stazione radio? Mi stavo chiedendo dov'ero. Animo. Ecco l'agio. Animo. Posso usare le tolle sulla nuova? Speravi di sfuggirmi? C'è un deposito di brawler qui vicino. Eccolo lì. Forse dovrei spostarlo da lì. Ne ho aperti a decine di questi. Con permesso. Oh, no, in me. Non dovevi venire qui. Ragazzi, ragazzi, se dovete fare un'imboscata, fatela bene. Ragazzi, 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 ragazzi. Cacciatori. Alcuni sono rimasti qui dopo Kravani. C'è un altro nascondiglio di brawler qui. Nota si può fare un'imboscata. C'è un altro nascondiglio di brawler. C'è un altro nascondiglio. C'è un altro nascondiglio di brawler. C'è un altro nascondiglio di brawler qui è un altro nascondiglio di brawler. Devo trovare un'altra angolazione. Altri laser. Zio Aaron ha visto troppi film di spionaggio di serie B. Trailer non poteva superare quei laser senza un sistema di sicurezza. Deve esserci un modo per disattivare quei campi. Un'altra angolazione. Eccoti qui. Deve esserci un modo per disattivare quei laser senza un sistema di sicurezza. Cammino sui muri. Scusa, è uno spider segreto. Mi sembra giusto. Grande. Lì c'è un pannello. Una centralina. Posso entrare con una scossa? Una centralina. Eccone un'altra. 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 Sì, sì. Sio? Sio Aaron? Dov'è finito? C'era davvero un deposito qui? Cosa ponete questo deposito? Sono le planimetrie del mio condominio. Non aveva strane idee in mente, vero? Mi devo tornare subito a casa. Che stai facendo, Sio Aaron? Spero davvero che non sia come sembra. Sio Aaron? Sio Aaron? Sio Aaron? Sio Aaron? Sio Aaron? Questa è una foto di papà e Sio Aaron da piccoli. Il giradischi di papà è sparito. Ha rubato anche a noi. È uno dei dischi di papà. Christmas Baby. Direi che stavolta ho fatto tempo. Sio Aaron è ancora qui. Non può prendere le nostre cose. Non sapevo di non poter meditare. Piles. Ma il su un cavolo. Ma tu non dovresti essere in libertà vigilata. Mi avevi detto di avere chiuso con Prowl e erai mentito. Ehi, 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 ehi. Calmati. Mio? Mamma. Volevamo farti una sorpresa, ma... Che sta succedendo? Quando hai iniziato ad aiutare tuo zio, sono rimasta stupita. Nonostante tutti i suoi errori, tu lo hai perdonato. Ho deciso di farlo anch'io e di aiutarlo garantendo per l'affitto del suo appartamento. Grazie ancora. Sarà bello avere di nuovo la famiglia vicina. Ero sincero. Prowler è una storia vecchia. Vorrei che avessimo un futuro. Insieme. Ho anche detto che mi sarei sdebitato, ricordi? Che cos'è? Un prototipo che ho avuto modo di sperimentare prima della Rockson. Ma può servire. Zio Aaron sta davvero facendo spazio per il futuro. Al piano di sopra. Non vedo l'ora di provarlo. Che cos'è. Cheers. Ciao. Ciao.